Trasferimento a Eichenbalderi Preparati ad attaccare Seleziona il tuo aereo Sia fatta giustizia Conquesterò l'armatura del mio maestro Portate rispetto agli anziani L'attacco inizierà tra 30 secondi Non preoccupatevi amici Sono il vostro scu Che c'è che non va nei classici? Adoro asseru Hai mai sentito? Dai troche Cercatemi non farvi ammazzare A me A me Correta nemica disperta Radonatemi Moneta di a me Tutto qui Ho bisogno di cura Ho bisogno di cura Mi aiutaci Servono cura Molte grazie Servono cura Servono cura Palla su qui Non è finita Radonatemi Radonatemi qui Tutti qui da me Sono solo obiettivo Unitevi a me nella gloria Caro No Amor medino Che Stephen Adoro Profila conquistando l'obiettivo provate a fermarmi grazie scottato portate a rispetto che non sono avanzate radunatemi portate a rispetto di nuovo in parta la mia ultra si sta caricando non preoccupatevi amici sono il vostro scudo radunatemi qui tutti qui da me sono tornato e ne voglio ancora attenzione a un telebarco ricevuto vediamo questo carico un'altra 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 Grazie a tutti. 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 Cecchino, su la testa se non volete perderla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti qui da me. Non abbandonerò la lotta. Grazie a tutti. Non abbandonerò la lotta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi serve... Mi serve... una... Una pioggia di giustizia. Una pioggia di giustizia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.